Primo hands-on di Repubates Il problema è che la demo è solo in francese Io non so il francese Quindi vedremo di arrangiarci così Vediamo, proviamo questa scena qui Piccolo caricamento Vediamo Il nostro programma è se si è svegliato adesso Vediamo come la qualità dei modelli E sembra molto buono Vediamo Allora Il puntatore mi sono un po' anonimo sicuramente Non mi piace Vediamo, gli oggetti Lit Non so cosa sia il lit Penso sia un letto Con un clic Si mette in tasca questo Ah è tipo un Non so cosa ha detto Chiffon Una sorta di Una sorta di Di fazzoletto tutto sporco E di tutto ci sa Un po' anonimo sicuramente Ma c'è un po' fatica a capire E' solo un Vediamo Vediamo Vedete ecco La qualità dell'animazione del modello è molto meglio di Black Mirror Erano più imbaccaliti Sembravano delle Delle statuine Che si muovevano Intenta riparare la lampada Ah no si è fregata la lampadina Ok Quindi vediamo Beh l'atmosfera mi piace Cioè almeno è sempre la solita Come era in Nibiru e in Black Mirror Molto occupa Decadente Ah che cosa fa? Vende La rincorsa Non ho rischiato di morire Qui Sono felice Non ho rischiato di trovare un modo di usare Vediamo Col tasto destro Ecco esamina Tipo Broker's War Col tasto destro esamina Esamina gli oggetti E con invece il tasto sinistro Tenta di interagirci Come in Black Mirror e Nibiru Non ci dice che azione fa Il puntatore rimane anonimo Quindi qui deve essere una sorta di interruttore Andiamo su questa porta e vediamo cosa succede Chiusa Penso che debba cercare la chiave Vediamo qua Non ci vado da nessuna parte Ah qua Vediamo Se clicchiamo due volte Salta bene Perfetto Ehm Qui cosa c'è? Non c'è nulla Scenari Un po' la Siberia Sti scenari Vuoti Cioè mi ricordo molto Un po' un Sembra cosa di un Siberia Dark Bello Mi piace Anche qui tutto chiuso Anche qui tutto chiuso È stato un granché Mi ha appassionato abbastanza Cioè insomma Appassionato Mi ha tenuto lì Quindi questo mi ispira molto Poi Va di me Qui delle foto Non si capisce cosa vi ha detto Qui non ci sono altri posti dove andare Quindi hai un Questo rag Questo rag qui Vediamo Qui non c'è altro con cui interagire Sono la porta La lampadina Ma Questo non ci si interagisce più con quella cosa lì Dica non c'è altro Aspetta qui c'è qualcosa Cavi Se non capisco male Si touchpa a Manu Si suis pas suicida Dice che si suicida se lo tocca Se ci proviamo a usare Il classico modo di usare tutto con tutto La lampadina No Non ci interagisce più Come è che i cavi sono da mettere a posto Ho sempre le collocazioni di prima Vediamo Non c'è nulla da fare Non si può interagire con niente Sarà bello vedere una scena Ecco aspetta qui c'è qualcosa Non c'è Culla cos'è Non fa nulla La ignora completamente Tentar non nuoto Dico me Si suol Come so dire Va bene Adesso ci fermiamo qua